Allora, buongiorno, buongiorno, è la nostra avventura accantonata al video di ieri, come si vede, e ci dirigiamo verso l'Urba Square e il X8. Siamo arrivati alla Urba Square. Siamo arrivati alla prossima. Siamo arrivati alla nuova meta, dopo sono un taxi, taxi driver, thank you man. In direzione a Vambunà, il famoso Tempio delle Scimmie. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sempre a tutti. Grazie. Namaste. The name is... 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 Grazie a tutti. 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 E appena fuori di Tamelle per cercare l'ufficio di Tamelle, abbiamo dato questo mercato che sembra rionale, come dire rionale, nella parte, dove siamo? Siamo a parte di Tamelle. Siamo a parte di Tamelle, verso Tamelle, verso Tamelle. Il trafico di Tamelle. Il trafico di Tamelle, come si chiama, come si chiama? No, come si chiama, come si chiama? Come si chiama. Sommers! Il giorno 6 gennaio, abbandoniamo l'hotel il hotel Spaccaparparpark ci spariamo uno yogurt, perché io ho vomitato tutta la notte perché che di sera abbiamo agito un po' secondo me pessimo ho vomitato tutta la notte poi ce ne andiamo a fare un giretto e poi ci vediamo più tardi all'aeroporto abbiamo bucato? bene bene cambiamo la gomma con l'ovina sopra siamo arrivati all'aeroporto stiamo per tornare a casa l'aeroporto che si chiama DB1 è l'unico aeroporto che si chiama e siamo pronti a tornare in Italia stiamo aspettando di poter cercare il check in pronti per il prossimo viaggio pronti per il prossimo viaggio bye bye ciao